Ricostruzione al palo e l'emergenza covid di certo non semplifica la situazione. I sindaci del cratere sismico sono in protesta e minacciano di restituire la fascia tricolore. Il governo è inadempiente e lontano anni luce dai problemi dei cittadini. Questa l'accusa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si dice al fianco dei sindaci. La polemica scaturisce dal fatto che nel decreto semplificazioni, atteso nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei Ministri, non ci sarebbe traccia di interventi a favore della ricostruzione. Marsilio spinge affinché i provvedimenti siano inseriti direttamente nel testo, piuttosto che presentati sotto forma di emendamenti. Gli emendamenti infatti dovrebbero essere sottoposti ai passaggi in Parlamento e quindi attendere la conversione in legge del decreto stesso. È giunto il momento di dare risposte concrete ai sindaci, al territorio, ai cittadini, incalza il governatore. Marsilio ha inviato diverse lettere al Premier Conte che vertono sia sul terremoto dell'Aquila che su quello del Centro Italia. Il governatore chiede misure finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, sia pubblica che privata, e di garantire nuove assunzioni di personale negli uffici speciali. Anche il commissario straordinario Giovanni Lennini chiede un pacchetto sisma. Secondo Lennini occorre stabilizzare il personale precario e prorogare i contratti, collegare il sisma bonus con il contributo per le case lesionate, prorogare lo stato di emergenza e dare poteri veramente straordinari al commissario, almeno per le opere più complesse. Queste misure infatti non erano state inserite nel decreto rilancio, che al termine del passaggio alle Camere sta per essere convertito in legge. Adesso è importante insistere affinché siano varate al più presto, ha dichiarato Lennini a meno di due mesi dal quarto anniversario del primo dei terremoti che hanno sconvolto il centro Italia.